Ornella Vannoni e il suicidio. Ho letto un bellissimo articolo, è un'intervista che il fatto quotidiano ha fatto Ornella Vannoni, la quale è molto anziana, e Ornella Vannoni dice che in Italia non c'è l'eutanasia, come in Svizzera non c'è l'eutanasia. E vabbè, allora uno si suicida. Sì, sì. E infatti che in Italia non ci siano le cliniche per la buona morte è un incendio al suicidio. È vero. Perché? E la Vannoni ha ragione. E se uno non può avere la buona morte in una clinica della buona morte, come in Svizzera e anche in qualche altro paese, uno fa da sé. E come dice il proverbio, chi fa da sé fa per tre. E poi è stato Dante Alighieri, non è la Divina Commedia, Dante Alighieri, e che nel Purgatorio vede Cattone Ludicense. E Virgilio dice a Dante Alighieri, lo vedi quello là? Quello è Cattone Ludicense. E il quale si era suicidato Cattone Ludicense per non cadere nelle mani di Cesare nella guerra civile. E Virgilio dice di libertà, va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. Cioè la libertà, la libertà dal dolore, eccetera. La libertà è più importante della vita. Sì sì, Ornella Vannoni è suicidio. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni. Guardate qua che belli romanzi di Serafino Massoni.